Ciao a tutti e bentrovati nella rubrica di interviste YouTube degli scrittori della Porta Accanto. Io sono Valentina Gerini e intervisto le persone in soli 15 minuti. Eccoci qua con Francesca, Stefania, Rizzo in arte, Fraste, giusto? Ciao, sì, ciao. Ciao Stefania o Francesca, io ricordo che tu mi hai detto... Tutti e due i nomi fanno parte di me, giusto? Sì, sì, perché metà delle persone mi chiamano Francesca, metà Stefania, ho detto c'è che li metto insieme, così almeno non ci sbagliamo. Esatto, quindi da lì è andato Fraste. Sì, sì. E con questo tuo pseudonimo hai pubblicato il libro di poesie, che fa parte della nostra collana, che ha un titolo evocativo e soprattutto molti lo apprezzano, no? Proprio questo titolo, dopo averlo letto, si intitola Dai graffi del cuore nascono parole. E io le mie poesie le chiamo Graffi. Ecco, raccontaci. Guarda, ti volevo dire una cosa, che è passato adesso un pochino di tempo, no? Perché il libro è uscito all'inizio ottobre, mi fa sorridere questa cosa dei graffi perché è diventato un po' il simbolo della mia riconoscibilità. Cioè, sui social addirittura qualcuno mi scrive, ciao graffi, come stai? Neanche ne fra, ne stè. Io sono diventata quella dei graffi e mi piace perché a me l'idea di usare il termine poesia, che sai, è sempre un termine da usare in punta di piedi. Il fatto che quello che scrivo io siano graffi e che quindi non venga accostato alla poesia tradizionale mi fa sentire anche un pochino più serena, un po' meno appesantita da questa responsabilità. Vero, ma poi alla fine hai trovato, è come se tu avessi trovato il tuo segno di riconoscimento, no? Sì. Come sono nati questi graffi? Quindi come è nata questa silloge in particolare? È nata come tante persone, di cui sto leggendo anche sui social, nel periodo della pandemia, probabilmente perché quel lavoro, la vita di tutti i giorni, anche se hai la passione per la scrittura, il disegno o altre cose, non hai tutto questo tempo da dedicargli. Quindi un po' perché di tempo ne ho avuto, come tutti, un po' perché l'ho vissuta in solitudine e quindi quando stai da solo i conti con te stesso li fai un pochino di più, no? E i miei graffi cosa sono? Quelle cose irrisolte, quelle cicatrici che di solito diciamo, no vabbè ma faccio finta di non vederla, poi ci penso, ma tanto ormai è superata, invece magari sono quei segni che vanno magari guardati un po' di più e affrontati, come dico io, invitati a cena con calma e davanti ad un bicchiere di vino o una birra e dici vabbè dimmi un attimo cosa mi devi dire che poi la chiudiamo qui e io vado avanti. Mi ha servito tanto, mi hanno fatto compagnia ma mi hanno aiutato a risolvermi, quindi sono venuti fuori per me per aiutarmi a superare il periodo e poi a voi sono piaciuti e io sono rimasta... Cioè non me la aspettavo che diventassero un libro, quindi questa cosa mi ha fatto un sacco piacere. Ma oltre al libro, che poi ha la particolarità di essere illustrato, le illustrazioni le fai tu e hanno proprio un loro stile, no? Come hai detto tu, è diventato un po' un, chiamiamolo, piccolo fenomeno, no? Perché come tu hai detto, sui social adesso mi conoscono come graffie, no? Come infraste, magari mi salutano e così. Per qualsiasi cosa io scrivo, anche se posto delle poesie al di fuori di quelle del libro, eccetera, loro comunque mi dicono ah bello il tuo graffio, ormai le mie sono graffie e questa cosa mi piace. Questa cosa dei social, perché tu stai utilizzando molto i social, sei piuttosto presente su Instagram, che poi Instagram è anche, se ci pensi, un social prevalentemente di immagine, no? E tu invece lo trasformi con, sì, un'immagine, però magari da te creata, un pretesto per, no, scrivere delle poesie. Non è una cosa semplice, se ci pensi. E ritrovo molto consenso, no? Tra chi ti legge, persone che apprezzano. Quindi volevo chiederti, se non ti aspettavi il libro, ti aspettavi addirittura sui social? No, vero. Allora, tu che sai che io Instagram ancora non ho capito come funziona, io mi chiedo come io faccio ad avere delle persone, o ad avere questo piccolo seguito, no? Però che per me è tanto, perché insomma, in poco tempo, se pensi che ho aperto il profilo quando ho pubblicato il libro, per forza di cose, e non è che ho fatto la genialata, è che io questo so fare, e quindi quello che so fare, o che so comunicare, metto. Mi fa piacere perché mi avevano detto, guarda Instagram è solo immagini, è video, io non so fare nelle storie, non so fare i reel, non so fare un cavolo. Però è bello che quando scrivo qualcosa, c'è comunque il riscontro, c'è la curiosità su quello che scrivo, indipendentemente dall'immagine, o se a me faccio un disegno, però la gente si ferma a leggere quello che scrivo, e questo mi piace. Poi sono una che risponde molto ai commenti, si sono create delle amicizie, delle piccole collaborazioni, persone incuriosite, che quindi hanno letto il libro, l'hanno pubblicizzato, e è bello questo, ecco, penso che i social debbano portare questo. Esatto, esatto, bisogna trovare la chiave giusta che ci rappresenta, per poi utilizzarla sui social. Io credo in questo caso che tu l'abbia trovato, soprattutto mi piace molto il fatto che tu ci porti la poesia sul social, su quel social che invece di solito appunto è immagine, a volte anche un po' fittizia, soprattutto su Instagram. Quindi come si chiama? Ormai l'abbiamo citato, come si chiama il tuo profilo Instagram? Si chiama Graffi di Fraspe. Giustamente, no? Giustamente, infatti mi chiamano Graffi. Ciao Graffi, come stai? Mi fa troppo ridere, ho due nomi, uno messo insieme, ora mi chiamano Graffi, però va bene, è carina la cosa. È vero, è vero. Nelle tue poesie, anche nella siloge, quindi dai Graffi del cuore nascono parole, le tue poesie sono a volte in italiano, a volte in inglese. Sì, sì. Come ti escono? Ora in italiano, diceva bene, la mia lingua, quindi vado tranquilla, come ti escono quelle in inglese? Perché alcune devono essere in inglese? Allo stesso modo, allo stesso modo, perché, forse perché, tu mi capirai perché hai studiato lingue anche tu, avendo studiato lingue, ti abitui a pensare direttamente nell'altra lingua, quindi non c'è una traduzione. Questo è quello che mi hanno insegnato, poi io sono andata a fare vacante studio, ho viaggiato tanto, e quindi come mi vengono le poesie in italiano che magari partono da un pensiero che mi gira per la testa, una frase, una canzone che ascolto, una cosa che vedo scritta su un muro, uguale mi capita con quelle in inglese. e quindi poi parte tutto, anche la musicalità, perché io quando scrivo mi sembra di avere una musica dentro la testa, non ascolto musica quando scrivo, perché ho questa musica mia che mi dà il ritmo di quello che devo scrivere, e quindi come in italiano mi succede anche in inglese, per quello non forzo la traduzione. Certo, infatti ero curiosa di capire come nascessero queste in lingua inglese, e tu hai detto quando scrivo poesie, non ascolto musica, ma ascolti musica in generale, magari leggendo le poesie, non so. Ascolto musica tantissimo, e la mia fonte di ispirazione, questo sarà impopolare, io non è che sia questa patita di libri di poesia, che se mi interroghi, magari prendo tre, ma prendo molto spunto, per me la tanta poesia la trovo nei testi delle canzoni, per quello anche forse mi viene più semplice nel mio modo scrivere anche in inglese, infatti tanti mi hanno fatto notare che le mie poesie possono sembrare o potrebbero diventare testi di canzoni, perché sono sempre stata una molto attenta ai testi, quindi dei cantautori italiani, delle canzoni italiane, ma tantissimo di quelle straniere, perché mi piace capire quello che, a parte la musicalità, l'orecchiabilità, però il testo per me è importante, sì. Quindi hai detto poco fa una cosa e mi aggancio con una domanda, che mi è uscita adesso, non leggi molte poesie, o comunque sì, ne leggi, ma ecco non sei super preparata, quindi com'è nata questa voglia di scrivere poesie che poi, come abbiamo detto, vengono lette e moltissime persone, ci sono tantissime recensioni anche su Amazon, di persone che le apprezzano e credimi non è facile far apprezzare le poesie, prima di tutto farle comprare, leggere e poi apprezzare, quindi partiamo dal principio, com'è nata, cioè come, quando? È stata la prima volta questa? No, io qualcosa scrivevo anche, infatti qualcuna delle poesie della Silloge sono delle cose che magari avevo scritto negli anni, le avevo, sai, conservate nella famosa cartellina, prima i fogli in giro, poi la cartellina sul computer, e non è nata come una scelta, cioè probabilmente, io sono sempre stata una, magari sai, che scriveva lettere, però mai un diario, mi è sempre venuto più semplice scrivere quello che avevo dentro sotto forma di poesia, ma non perché l'ho scelto, perché sono capace, questo so fare, e così magari l'ho scritto, no? Come, quindi è stato tutto molto istintivo, cioè molto naturale. Non ti ci sei cimentata, diciamo, da proposito, pensieri che sono usciti. Sì, che poi hanno preso questa forma, ho detto, guarda, vedi, io non le chiamo poesie, ti ripeto, perché mi piglia quasi male, usare il termine, però ci assomigliano, cioè sono, è comunque un modo di raccontare delle emozioni, a modo mio, che assomiglia sicuramente di più alla poesia che alla prosa, no? Perché la prosa comunque ha uno sviluppo diverso, la storia viene trattata diversamente. Utilizzi spesso le rime, giusto? Sì, sì, anche quelle non le cerco. Vengono così? Sì, era una cosa che mi aveva fatto notare anche Silvia Pattarini, sì, che aveva notato che, cioè, io non ho uno stile, una metrica, uno schema, cioè, anche le rime, a volte non sono rime precise, baciate, però ci sono delle assonanze che comunque le fanno diventare rime, ma tutto veramente, cioè, io non vi posso dire, vi saprei insegnare come scrivo, perché non lo so manco io, cioè, questo viene, se è decente, se vi piace, sono contenta, però veramente, sono una scrittrice della porta accanto proprio, cioè, non potevo trovare case editrice migliore. Migliore, esatto. E ci metti mano più volte nelle poesie o quando vengono, nei graffi, scusa, o quando vengono, vengono e sono già, come dire, pronti? No, da poi le aggiusto, assolutamente. Metto giù d'impatto tutti i vari pensieri, poi c'è la parte di montaggio e poi sono una, soprattutto quelle in inglese, che sta molto attenta a non ripetere dei termini, perché è una cosa che odio anche quando leggo, no? Cioè, siccome la nostra lingua, la lingua comunque è piena di termini, quindi c'è un minimo di ricerca, c'è la correzione, c'è andare a cercare una parola, siccome i miei graffi, che sono accompagnati da disegni, mi piace che vengano visualizzati come delle immagini, a volte mi hanno detto leggendo le tue parole riesci quasi ad immaginarti cosa stai raccontando, quindi un sinonimo piuttosto che un altro magari ti, la metafora o quello che voglio far arrivare ti fa costruire meglio l'immagine, quindi la scelta delle parole a volte, sì, ci lavoro, non è che scrivo e quello che arriva metto e no, è un minimo, sì, assolutamente. E hai appena citato i disegni, l'abbiamo detto insomma, all'inizio dell'intervista sono in particolare quelle della silloge e dai graffi del quale nascono parole sono tutte illustrate, però c'è una piccola illustrazione ricorrente, no, in ogni disegno, il cuore, volutamente lasciato di rosso, no? Sì, sì, assolutamente. Come mai? Allora, quel cuore per me rappresenta un po' la resilienza ed è il messaggio di speranza e di riscatto e di scegliere di vivere piuttosto che di sopravvivere che spero trassudi da ogni poesia anche se magari c'è dolore, delusione e mi sono rifatta un po' al fenomeno del Kinzuji, però invece di usare la lega d'oro che valorizza i cocci rendendoli unici, mi è piaciuta l'idea di usare questo cuore che rimane aperto con questa gabbiettina di resilienza e di speranza dove tutte le briciole, le ceneri del cuore comunque rosso vengono comunque ingabbiate e trattenute e ci regalano un nuovo cuore comunque messo a posto con tutti i pezzetti vecchi per affrontare quello che arriva dopo. Fantastico! E quindi mi è piaciuto che poi ci fosse in ogni poesia perché in ognuna spero ci sia questo piccolo messaggio. Io chiuderei con questo messaggio. Che dici? Assolutamente. Chiuderei così e ti ringrazio per la sentita. Grazie a voi tantissimo. Grazie di aver partecipato. Francesca, Stefania Rizzo, Fraste oppure Graffi ormai? Graffi come volete ormai se mi chiami anche con un fischio io mi giro a questo punto. Grazie. Grazie. Grazie.